Allora, ho deciso di sistemare la libreria, questa che è alle mie spalle, perché è un disastro. Ogni volta che faccio una lezione, siccome mi capita tutte le settimane, almeno una volta di fare una lezione video, lezione intendo, è un disastro. Poi avere questa cosa incasinata alle mie spalle, metti conto che voglio fare un video come adesso, è ugualmente un casino. Ho deciso che lo faccio e lascio la videocamera accesa, quindi riprenderà tutto quanto. Io nel frattempo mi ascolto una puntata di Ricciotto in Cuffia e sarà la stessa puntata che poi sentirai anche tu, perché la metto sotto, passeranno i gatti, mi farò i fatti miei, risponderò ai messaggi e tutte queste menate qua. Ci metterò circa 50 minuti perché alle 4 poi devo sentire un cliente e quindi per forza di cose devo smettere di fare questo video. Va bene? Ciao! Benvenuta a Ricciotto, il cinema dalla parte giusta finalmente è tornato a registrare di persona. Evviva! Io ho un sorriso che vada qui alla fine della via in cui abita Matteo, che non possiamo dire. Per motivi di privasi. Per motivi di privasi, però è corso comodo. Almeno questa puntata la faremo dal vivo, probabilmente faremo dal vivo nel senso di persona, probabilmente faremo dal vivo anche la prossima e poi vediamo insomma. Speriamo. Da distante è comodo, c'è un cazzo da fare. Sì, è vero. È abbastanza comodo. Comunque state ascoltando Ricciotto, il cinema dalla parte giusta, il programma di cinema di Querti, Querti con la U, un po' come Deborah con l'H. Matteo e Federica vi salutano, Aldo oggi non ce la faceva perché era impegnatissimo. E quindi noi salutiamo Aldo. Ciao Aldo! Improvvisato c'è anche tutto abbastanza bene. Il feed di cui parliamo oggi lo trovate su Prime Video, se non sbaglio. È un feed carino, vi consiglio di vederlo perché mi sono divertito abbastanza. E guarda Fede, quali sono le nostre tracce registrate. Che bello, che emozione, da quanto tempo. Di solito vedo sempre la mia e basta. Per cui adesso mi sento finalmente in compagnia. E non induciamo oltre. Vai Fede con la scheda di Get Duked, che è un film, di cui ho appena pronunciato il titolo, che può testimoniare, almeno nel mio caso, come il cross marketing funzioni. Nel senso che io sto film non me l'ero cagato di pezza, Matteo neppure, nonostante Aldo ci avesse detto in un aperitivo, prima di vedere Tenet tra l'altro, di cui arriverà la recensione state tranquilli, oppure è già arrivata. No, penso che questo film... Chissà, questa puntata cronologicamente esce prima. Prima però, chi lo sa, la tenaglia temporale, come piace dire ad Aldo. E ti ha rotto il cazzo che è la tenaglia temporale. Aldo ha rotto il cazzo che è la tenaglia temporale. Vabbè, a me fa ridere tutte le volte che Aldo dice sì, perché secondo me la tenaglia temporale. Comunque, prima di vedere Tenet, Aldo ci diceva sì, perché uscirebbe questo film, che non mi ricordo tanto come si chiama, si chiama tipo Boys in the Wood. Per cui ho detto, vabbè, sti cazzi, punto di domanda, punto di domanda, punto di esclamativo, punto di domanda. Fatto sta che qualche giorno dopo, totalmente per gli affari miei, ho scoperto che è uscito un nuovo videoclip del nuovo disco dei Run the Jewels, che sono un duo statunitense di hip-hop... Corri Gioielli. Corri Gioielli, sì, esatto, Corri Gioielli. Sono un duo statunitense hip-hop, molto famoso in America, che è al quarto disco, che si chiama Run the Jewels 4, che vi consiglio parecchio. In realtà ve li consiglio tutti, sono molto, molto bravi, sia a livello di produzione che a livello di testi, e hanno fatto uscire il videoclip per il loro terzo singolo, che si chiama Out of Sight. Io mi sono guardata il videoclip perché a me i videoclip piacciono, come già sapete, e vedo questo videoclip in cui sono protagonisti questi quattro ragazzini che fanno delle cose dentro questo museo di Run the Jewels, e poi praticamente si rannano i gioielli, nel senso che li ingoiano, e si vivono questo trip incredibile con i Run the Jewels e 2 Chainz, che fa il featuring nella canzone. E mi dico, ma che è sta roba? E alla fine viene fuori. Questi sono i protagonisti di Get Dooked, e il videoclip... Che se volessimo tentare una pronuncia scozzese come il film dovremmo dire... Esatto. E il videoclip è diretto da Ninian Doff, cioè il regista di Get Duked, che non riesco a dire. Get Duked. Get Duked. Per cui mi è venuto il dubbio che fosse quello che diceva Aldo, scritto nella nostra chat, questa storia è lunghissima, però vi dovete beccare l'aneddoto. Siamo solo a quattro minuti. Siamo solo a quattro minuti di storia. Non riuscivamo a capire se fosse quello o se non fosse quello, alla fine Aldo ho detto, sì, è quello. Ho detto, perfetto, guardiamo questo film. È quello perché ha cambiato titolo, effettivamente. Esatto, perché inizialmente si chiamava Boys in the Wood, quando è stato presentato... Boids, sì, che sembra Boys in the Hood, però in realtà è Boys in the Wood, perché è ambientato nelle islands scozzesi. È stato presentato così l'anno scorso al South by Southwest, poi per l'uscita gli è stato cambiato il titolo in Get Duked, per motivi che non conosco. A me in realtà piaceva di più il primo... il primo titolo, anche perché aveva molto più senso poi a livello tematico con la cosa che c'è, con quello che va a raccontare, e un po' anche con le personalità di quattro protagonisti. Fatto sta che se non fosse stato per il video di Run The Jules, io non avrei mai visto Get Duked, non avremmo mai fatto la puntata. Quindi cross-marketing, ragazzi, funziona. Per fortuna funziona anche per le robe belle, non solo per le robe brutte. Detto questo, adesso che ho finito... Vai con lo scheletro. Il mio incredibile aneddoto, che non mi viene a fare cancazzo a nessuno, tranne che a me, posso andare con lo scheletro, quindi alzo bene l'iPad, che non ci vedo una mazza, perché sono anziana. Che sono ciecata. Esatto, che sono ciecata. Dicevo, quindi, ho visto questo film, e anche Matteo e anche Aldo, forse no. Al momento Aldo ancora no. Al momento no, però dopo aver ascoltato questa puntata lo andrà a vedere sicuramente, perché è il potere del mio scheletro. Get Duked è una commedia nera inglese. Vuoi il gingolino per il potere dello scheletro? Devo inventarmi o ma te lo faccio? Sì, vai. No, adesso non ce l'ho, te lo devo fare. Ok. Il potere dello scheletro... Vai. No, perché lo scheletro... Vai, vai avanti. Sotto Halloween. Quindi il potere dello scheletro. Sei troppo esaltata dal fatto che siamo di persona. Sono contenta! Sono contenta che siamo di persona. Vabbè, comunque, qui sotto, spazio per il jingle. Aspetta, faccio un marker. Vai. Ok. Bellissimo questo jingle, Matteo. Ah no, hai visto? Stupendo. Get Duked è una commedia nera inglese, ed è il primo lungometraggio, come dicevo prima, del regista Nini Andoff, che fino a questo momento aveva lavorato principalmente sia nelle pubblicità che, come dicevo prima, nei videoclip, tra cui anche quelli per Irande Jules. Alcuni, penso un paio, non di più. E come dicevo prima, è stato presentato lo scorso anno al Southwest, con il titolo, appunto, più figo, Boys in the Wood, ed è stato comprato dagli Amazon Studios, che l'hanno fatto uscire adesso, ciao, tecnico del suono, che l'hanno fatto uscire adesso su Prime Video. Non so se fosse la loro intenzione farlo uscire al cinema, oppure se fosse dall'inizio l'intenzione è quella di farlo uscire in VOD, cioè direct to video, anzi video on demand, che ha più senso. Il fatto sta che lo potete trovare su Amazon Prime. Il cast principale, cioè di questi quattro protagonisti, di cui andiamo a parlare dopo, è formato da giovani attori e sconosciuti, almeno io non li avevo mai visti, ma che sono bravissimi, sia singolarmente che insieme, mentre i comprimari sono dei caratteristi inglesi di un certo livello, nel senso che, anzi, inglesi o scozzesi? Oh no, adesso mi viene il dubbio. Perché islands scozzesi sono scozzesi per forza. Vabbè, scozzesi facciamo di un certo livello, per se è ambientato nelle islands scozzesi saranno scozzesi. Vabbè, poi mi viene l'ansia che magari la gente si incazza, scusate, sono ignorante di geografia, tra cui Kate Dickey, che abbiamo visto sicuramente, io non me la ricordo, ma perché di Game of Thrones non mi ricordo niente, in Game of Thrones. Ah, ho scoperto che è la sorella della mamma della famiglia Stark. Ok. Quella che è il figlio che a 14 anni continua a prendere il latte. Perfetto. Spoiler per chi non ha visto Game of Thrones. Poma bestica. Tanto per come... le tre puntate iniziali, tra l'altro, Game of Thrones. Non saprei veramente. Però è anche la protagonista del primo film di Andrea Arnold, che è una regista di cui abbiamo parlato in Passan, però di sicuro l'abbiamo citata più di una volta. Poi c'è James Cosmo. Qual è il film, scusami? Si chiama Red Road, se non sbaglio. C'è James Cosmo, che anche lui è in Game of Thrones, però ha anche fatto il padre di Renton in Trainspotting e soprattutto ha un ruolo che non mi ricordo, in Highlander. Oh! Nel primo Highlander, non mi ricordo assolutamente quale ruolo, però ce l'ha. E infine Jonathan Eris, che io mi ricordo perché è uno dei, non dei protagonisti, però ha una parte abbastanza grande in Sherlock. Comunque, appunto, sono tutti caratteristiche che tu vedi le facce e dici io questa faccia l'ho già vista, principalmente per la televisione inglese. Ecco chi era in Game of Thrones. Adesso l'ho riconosciuto. Sì, io non ho. In Highlander, credo, dalle foto che vedo su Wikipedia, credo che fosse un... No, questo è Braveheart, credo sai. Sì, questo è Braveheart. Sì, ha fatto anche Braveheart probabilmente perché nelle Highlands ormai... Sì, infatti, solo quella roba lì, no, deve essere stato uno del... come si dice, del villaggio di Duncan quando è umano. Sì, effettivamente ha senso. Tra tutti questi, però, il nome di spicco è quello del comico Eddie Izzard che però, in realtà, per tutta la durata del film non si fa vedere mai totalmente in faccia per motivi che... in realtà non è che sono particolarmente spoiler, quindi magari ne parliamo dopo. ed è comunque... diciamo che è l'antagonista del film, anche perché non c'entra che sia Eddie Izzard o no. È l'antagonista del film che parla di quattro ragazzi un po' sfigati che sono costretti e di cui tre sono molto molto amici e uno lo incontrano lì, si chiama Ian, è un po' il più sfigatello del gruppo e l'unico contento di fare quello che stanno per fare. Sono costretti a partecipare al Duke of Edinburgh's Award che è, da quello che ho capito io, secondo la mia esperienza, una lunga missione scout nelle islands scozzesi. Fondamentalmente sì. I quattro sono molto sprovveduti, quindi la missione è molto più difficile del previsto, sono molto sprovveduti e non hanno voglia di fare una missione, quindi si incasinano già per conto loro e in più si rendono anche conto che sono stati presi di mira da una misteriosa coppia di cacciatori che cerca di ucciderli e che loro pensano siano il duca di Edimburgo e la moglie del duca di Edimburgo. Da lì, insomma, il resto è storia o il resto è il resto del film. Parlando un po' Scusami, Fede, volevo dire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici il solito dettaglio che diamo sempre ogni estate, cioè che è estate ancora e per quanto nei giorni scorsi ci sia stato un abbassamento delle temperature e fa ancora caldo. Noi abbiamo chiuso la finestra quindi abbiamo caldo e abbiamo acceso il ventilatore dietro quindi se sentite dei frusci in sottofondo o sono i gatti possibile o è il ventilatore. L'altra cosa è che il duca di Edimburgo è di fatto il marito della regina quindi i deficienti dei protagonisti dei film pensano di vedere la regina e il suo marito che li inseguono. Oh mio Dio non ci avevo ragionato su questa cosa ma sono deficiente anch'io. Vabbè, diciamo che non sono inglese quindi mi prendo Sì, appunto. Spezzo una lancia nei miei confronti. Comunque tutto questo per dire che a me Get Duked è piaciuto nel senso che secondo me ha due pregi molto molto importanti. È piaciuto senza mega entusiasmi però mi è piaciuto in quel senso onesto del dire ma sai cosa? È un film che si regge e che è molto apprezzabile. Innanzitutto perché è molto compatto sia nella forma cioè nella storia nel modo in cui si svolge la storia sia nella durata. Come sapete io quando il film è inferiore all'ora e mezza per me è sempre un punto a favore ovviamente se il film è bello. Cioè se già è bello così allora se sei pure riuscito a farlo in meno di un'ora e mezza per me è pure meglio. Per cui sappiate che questo film dura con i credits cioè con i titoli di coda dura un'ora e me del genere come secondo me come primo lungometraggio di un regista che ha fatto fino ad adesso principalmente videoclip e pubblicità queste due cose non sono da sottovalutare soprattutto anche vista la premessa del film stesso che è un po' vaga tra il tra lo stupido e il molto serio infatti secondo me il film scorre velocissimo e ci sono parecchi inserti videoclipari che lì si capisce qual è un po' il bagaglio che si porta dietro il regista perché ci sono lunghe scene in cui ci sono i protagonisti che fumano oppure ingeriscono sostanze stupefacenti tra cui anche delle cacche di coniglio che vengono mostrate tutte queste sequenze dal loro punto di vista quindi in maniera molto distorta molto allucinante con la musica di sottofondo per cui sembra effettivamente di vedere dei mini videoclip all'interno del film che non è una novità però diciamo che se tu lo sai fare sai gestire molto meglio quel tipo di inserto e quel tipo di di format anche all'interno di un format un po' più grande come quello del lungometraggio e il regista stesso tra l'altro ha detto di aver voluto fare in questo modo un film che fosse contemporaneamente quello che ti guardi con gli amici per la decima volta il venerdì sera magari con una birra e con una pizza oppure mezzo addormentato eccetera ma che comunque ti diverti lo stesso proprio quel film che metti su anche se o meno lo conosci a memoria e allo stesso tempo però portando anche avanti un messaggio che è esplicitamente critico di un certo tipo di società e anche politico secondo me come dicevo prima è un film che in cui Doff riesce a combinare tranquillamente sia le intenzioni con la forma e sotto questo punto di vista cioè quali sono le sue intenzioni e come effettivamente è uscito il film funziona nel senso che mi posso tranquillamente immaginare persone anche più giovani di noi magari e magari dell'età dei protagonisti guardarsi questo film con i loro amici e divertirsi di brutto perché in realtà il target probabilmente è molto più basso del nostro nel senso a livello di età però secondo me sì cioè io mi immagino un ragazzino di 17-18 anni divertirsi molto di più di me poi ricordiamoci che tra te e me ci stanno più di 10 anni comunque però io stessa probabilmente se avessi visto questo film quando andava alle superiori mi sarebbe piaciuto ancora di più di quanto ah in quel senso sì in quel senso sì probabilmente perché evidentemente Doff cerca anche di toccare un certo tipo di un certo tipo di pubblico e un'altra cosa che mi è piaciuta e che già più o meno anticipato è che Doff arriva scusate Doff arriva dal mondo dei videoclip e soprattutto quelli di musica hip hop e di rap e si vede chiaramente perché come dicevo prima molte sequenze sono strutturate come piccoli videoclip musicali quindi Doff prende quello che lui già conosce cioè un certo tipo di impostazione di format visivo e un certo tipo di musica anche applicato a nonostante comunque Doff abbia fatto anche dei video per i Chemical Brothers che non sono proprio hip hop però comunque è un po' quel tipo di musica che ti carica parecchia che fa molto anche da colonna che può fare da colonna sonora alle tue giornate alla tua vita se ti piace se ti piace ovviamente sì sì allo stesso tempo però prende anche il suo amore per l'hip hop e lo motiva sotto due punti di vista secondo me innanzitutto perché allora l'hip hop non ho detto è colonna portante della colonna sonora nel senso che la maggior parte della musica che sentiamo a parte una colonna sonora magari per i momenti di esplorazione quindi una roba un po' più base diciamo è fatto quando quando la musica deve spiegarti lo stato d'animo dei protagonisti è sempre musica hip hop e lì si capisce qual è l'amore di Dove nei confronti del genere perché lui prende l'hip hop e lo motiva per due motivi innanzitutto lo fa diventare come dicevo la lente attraverso cui i personaggi vedono il mondo e quindi lo inserisce anche addirittura in maniera tra il diegetico e l'extra diegetico cioè tra la musica che i personaggi sentono nella loro storia e l'extra diegetico cioè quello che noi sentiamo al di fuori per cui c'è da sottolineare come uno dei protagonisti sia esatto un hip hopper come si dice un rapper nel suo piccolino cioè uno dei quattro protagonisti si fa chiamare DJ Beatruth e ci sono un sacco di belle battute su questo nome sul fatto che si chiami DJ Beatruth tra l'altro se l'ha pure se l'ha pure tatuato sì 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 in maniera inciso direi esatto se l'ha inciso in maniera abbastanza cruenta fammi verificare una cosa che ovviamente non guarderò adesso il film ma vedo se c'è anche in italiano sopra in video e in quel caso sarei curioso se qualcuno lo vede esatto come l'hanno adattato sì effettivamente sì noi l'abbiamo visto in inglese perché diciamo che gli accenti sono una cosa che è giusta che è giusto sentire comunque appunto come dicevo prima grazie al personaggio di DJ Beatruth che rappa durante tutto il film e soprattutto una sequenza molto grossa in cui fa proprio tutto un rap da cui poi viene preso il titolo l'hip hop è veramente la lente attraverso cui i personaggi fanno esperienza di quello che vedono c'è anche in italiano DJ Beatruth no 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 il film dico ah ok chissà com'è allora boh non lo so sarebbe curioso sapere dopo andremo a guardare diversamente però inserisce Doff inserisce anche l'hip hop in maniera extra diegetica e quindi nella colonna sonora sia come mezzo per farci capire quello che vediamo e che il fatto che lo vediamo attraverso i personaggi come dicevo prima sia come anche commento a quello che stiamo vedendo infatti abbiamo soprattutto quattro canzoni nello specifico abbiamo Ain't It Funny di Danny Brown all'inizio poi abbiamo la prima metà Legend Is It Drian The Jules che dicevo prima appunto che Doff conosce e poi quando iniziano i quattro ragazzi a essere inseguiti da questi misteriosi assassini parte una canzone degli Injury Reserve che si chiama Ini Mini Ma Ini Mo e che parla tra le altre cose di catturare dei rapper e infine senza fare spoiler c'è una canzone di Vince Staples che si chiama Back Back in cui c'è una forte critica al governo e alle istituzioni all'1% e si parla del 99 che deve che deve riuscire a sconfiggere appunto i mega ricchi e i ricchi stronzi e quelli che ti vogliono far rimanere per terra e in molti casi quindi durante il film c'è una puntualizzazione con la musica di quello che vediamo questa è una cosa che noi a Ricciotto critichiamo quando succede o comunque quando succede in maniera un po' goffa perché molte volte succede che magari c'è il momento drammatico la musica ovviamente non sarà allegra a volte sì perché all'età pensiamo a Kubrick che magari fa le sue robe come voleva lui però molte volte soprattutto magari nei film horror nei film romantici c'è il momento romantico allora partono i violini c'è il film c'è il momento horror parte la musica in suspense in questo caso nel caso di Get Duked non c'è il suono che ti fa capire una certa cosa ma c'è il testo che in molti casi potremmo essere critici siamo stati critici perché magari evidenzia troppo le intenzioni della sceneggiatura esatto e rischia di essere didascalico e ridondante in questo caso però diversamente da altre volte secondo me ha molto senso il fatto che Doff metta della musica che con i suoi testi esplicita chiaramente quello che sta succedendo perché la musica è è quello che esce dalla testa dei suoi protagonisti come dicevamo prima i protagonisti vedono attraverso soprattutto di JB Truth attraverso la lente dell'hip hop il suo modo di vedere il mondo comunque il modo di volersi porre anche che c'è non sto cantando il mondo scusami volersi porre rispetto al mondo è ovvio che se questi se questi ragazzi vivono l'hip hop come un modo di capire quello che hanno attorno la musica sarà mega esplicita perché comunque ovviamente i testi sono non sono chiari tipo tu mi piaci tu mi fai schifo cioè sono molto più particolareggiati e comunque la musica la musica hip hop soprattutto quella di questo sempre è stata così però magari anche questo periodo è molto è molto impegnata è molto particolareggiata c'è Kendrick Lamar ha vinto il Pulitzer qualche anno fa ha vinto il Pulitzer dimmi nome Kendrick Lamar Pulitzer teoricamente sì per il premio Pulitzer esatto perfetto nel 2018 esatto sì Kendrick Lamar è un rapper però appunto per questi ragazzini che hanno 17 anni e l'hip hop è il loro modo di vedere le cose è ovvio che la cosa sia estremamente estremamente sottolineata e in più sempre per dire che Dove decide in maniera intelligente e con gli strumenti che conosce applica la sua conoscenza dei videoclip in modo di far sembrare questo inserimento della musica hip hop all'interno del mondo dei protagonisti nel modo più fresco e divertente possibile allora io devo essere onesto le grafiche da video hip hop e i momenti da video hip hop non le musiche sottolineate come stavi dicendo tu ma i momenti da video mi hanno pesato un poco ma è anche perché non è la mia musica cioè non la conosco non la capisco più tanto quelle cose lì come musica di sottofondo per le scene ci sta molto bene in alcuni momenti mi sono detto cazzo ma dovevano proprio fare tutto il video di DJ Beatruth che fa queste cose qui sì perché ha senso per il film l'ho trovato un filo troppo pesante per i miei personali gusti però non è stonato non è fatto a cazzo di cane ecco no secondo me come dicevamo prima lì ritorna il motivo per cui dicevo che secondo me è un film coerente un film che funziona per le intenzioni del regista è che magari per te e anche per me a un certo punto quella roba lì può essere un attimino troppo però se la sua intenzione è quella di fare un film che ti guardi con gli amici e che hai già visto è perfetto perché tu ti fissi sui momenti quelli lì anche più fighi da vedere per cui non stai a gestire a stare dietro alla storia però comunque nonostante per Doff sia importante appunto avere un film che sia quella roba fresca quella roba giovane quella roba che un po' che ti diverti che ti fa divertire e che in realtà è molto divertente come diceva prima c'è anche una critica sociale che è con l'evidenziatore ma tipo la roba più grossa che abbia mai visto prima che però ripeto non mi ha dato fastidio no anche perché viene disinnescata subito dopo certo quindi sì 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 se vuoi mettere lo spoiler ne parliamo però non credo che ne vado a cercare no secondo me possiamo andare tranquillamente senza spoiler tanto un film così breve che non ha tanto però a parte appunto vari spiegoni e vari vari momenti di monologhi che comunque vengono trattati in maniera molto che non si prende particolarmente sul serio il film cioè vorrei partire un po' anche dalla sua premessa perché il film parla di una cosa che io non conoscevo ma che riconosco molto molto bene avendo fatto gli scout per anni cioè questo percorso fatto da ragazzi sui giuperi monti che sono lasciati a se stessi indipendenti che devono crescere eccetera eccetera questo programma sono andata a poi informarmi che è il Duke of Edinburgh Award fu lanciato da un ufficiale inglese che per primo da questo ufficiale inglese che per primo ha guidato una spedizione che riuscì ad arrivare sull'Everest ed esiste dalla fine degli anni 50 praticamente fu fatto inizialmente per i ragazzi poi anche per le ragazze fu fatto per quelli che non si volevano iscrivere ad altre organizzazioni giovani inglesi come ad esempio appunto gli scout ed era un percorso che io all'inizio guardando il film pensavo che fosse semplicemente vai di qui cioè vai da una parte all'altra delle islands e finito in realtà dura anni per cui ci puoi mettere anche 4-5 anni a completarlo e lo devi completare entro i 25 anni Doff secondo me anche perché credo che finisca sulla costa ufficialmente mi pare che il percorso che dice il professor cioè non è troppo breve alla fine perché il fatto devi attraversare per larghezza per la metà della Scozia sì ti devi fare una bella scarpinata secondo me Doff per il messaggio che poi manda alla fine è stato furbo usare questo tipo di premessa perché racconta di una pratica che potrebbe essere in realtà molto interessante in sé che però è stata pensata da adulti alla fine degli anni 50 per responsabilizzare tra virgolette i ragazzi e quindi renderli adulti modello però di un modello che rispecchia degli ideali che in questo momento non ci sono più e che presa in una maniera più ampia questa voglia di modellare i ragazzi diventa un modo per mantenere intatto un certo tipo di ideale di ragazzo di giovane ragazzo di giovane adulto che rispecchia un tipo di regole che in questo momento non ci sono più e che riguardano anche sia a livello sociale che a livello economico eccetera eccetera che guardano un po' all'alto per cui è un po' diverso dagli scout nel suo essere almeno in questo momento un po' più democratico cioè gli scout sono molto democratici a livello di a parte che sono un'organizzazione paramilitare più religiosa io ripeto io ho fatto gli scout per anni e quindi potrei veramente parlare per dieci ore dei pro e dei contro degli scout hai imparato a lottare con un orso? quasi allora posso allora va bene per cui nel senso non mi sento è quella classica situazione per cui ho sentito di esperienze di ragazzi e ragazze agli scout che fanno rabbrividire ho sentito di altre esperienze che sono state incredibili la mia è stata a metà e metà per cui vedo veramente tutti i punti di luce i punti di ombra di questo tipo di addestramento in realtà perché è veramente appunto è detto che paramilitare ed è tutto vero nel senso che o ci sono gli scout religiosi e cattolici per cui comunque tu devi seguire una serie di regole ci sono anche quelli laici però comunque diciamo che devi sapere l'ino d'italia o cose del genere per cui devi sempre comunque seguire un certo tipo di credo in un modo o nell'altro e poi comunque quella roba lì a livello anche di giochi di potere eccetera non mi addentro però è appunto tutto per dire che il ragazzo viene responsabilizzato nel bene perché diventi indipendente io a 13 anni sapevo costruire sapevo far su una tenda sapevo costruirmi un angolo cucina per cucinare mangiare trovare la legna i nodi tutte queste cose qui io sapevo essere indipendente per 15 giorni almeno però detto questo ci sono anche molte cose che sono molto problematiche ma infatti quando sei venuta a Milano io mi ricordo ti sei costruita l'angolo cucina ti sei legata insieme a una sedia sì sì io c'è da dire che non vivo in un appartamento io mi sono piazzata in mezzo a un parco sei al parco Lambro esatto sono al parco Lambro con la mia tenda da ormai 4 anni ed è piacevole certe volte è un po' dura però vabbè quando devo andarmi a lavare vengo da Matteo mi faccio la doccia però ecco volevo dire questa cosa qui cioè che i 4 protagonisti non a caso secondo me sono figli o almeno i 3 poi c'è il Ian quello un po' più ingenuo che non appartiene a un a quel tipo di estrazione sociale però i 3 protagonisti principali oppure i 3 su 4 si capisce che sono figli di operai o comunque figli di persone non ricche uno di loro dice addirittura a un certo punto la mia io so che la mia vita a un certo punto io andrò a lavorare al mercato del pesce con mio padre comunque la sua aspirazione finale è di andare a lavorare al mercato di restare nella sua classe sociale di non migliorare cioè pensa di non poter riuscire a migliorare la sua posizione sociale per via del di come è strutturata la società inglese e c'è appunto il monologo finale sottolinea un po' troppo effettivamente queste cose qui si sottolinea in maniera che sia impossibile non capirlo esatto e infatti poi appunto i ragazzi che vengono vengono mandati a fare a fare questo a fare questo percorso ci sono appunto questi assassini che li vogliono ammazzare e questa cosa ha collegamenti con il fatto che il percorso fosse stato fatto negli anni 50 per portare avanti un certo modello di ragazzino e il fatto che loro non appartengano a quella roba lì per cui c'è una lotta interna e anche esterna fra nuove generazioni vecchie generazioni ma nel senso di io c'ho twitter e tu non sai usare il telefono ma tu hai le possibilità e io no esatto tu hai le possibilità e io no e tu non vuoi che io le abbia se non aderisci a un certo modello a cui però non puoi aderire perché ci devi essere nato per cui è proprio un cerchio che non si chiude in un certo senso per cui a livello di critica sociale che DOF fa il livello è molto base nel senso che non dice assolutamente niente di nuovo non è che è loce no assolutamente però è interessante anche perché io non conoscevo questa cosa qui tra l'altro ho letto anche che mi sa che è stato fatto solo un altro film negli anni 60 negli anni 70 su questo percorso è critico anche di questo percorso qui però è un è una cosa di cui non è mai stato il cinema il cinema scozzese o comunque il cinema inglese in generale non ha mai discusso che però effettivamente è una roba abbastanza grossa e questo mi ha fatto pensare che quanti film sugli scout ci sono in Italia? hai controllato me lo stai chiedendo no è una domanda che non mi è venuta in mente film sugli scout perché anche lì veramente aquile randagge te lo dico subito ma hai sentito in vita mia del 2019 un film di Gianni Aureli la storia poco conosciuta di un gruppo di scout che si oppose al fascismo vabbè ma questo qui allora vedi che non c'entra però perché cioè sì non è colpa tua no però nel senso anche lì vedi allora gli scout che si oppongono al fascismo film storico quello ha diversamente cioè non c'è non abbiamo film in Italia che raccontano proprio non lo so la vita di degli scout o comunque non lo so un ragazzino che va a fare il campo scout ed è una cosa interessante perché poi non lo so in realtà adesso chiedo anche alle persone che ci ascoltano per me però per esempio ieri sera ero con Lavinia la cui voce potete sentire a Tizioni d'Inferno tutti i mesi tranne d'agosto d'agosto non registriamo niente e parlava con un'altra nostra amica anche lei campana e ragionavano come gli scout sotto un certo parallelo a meno che sono i paralleli vero quelli in orizzontale comunque sotto non ci sono o quantomeno sono meno conosciuti ecco infatti questa qui era la mia domanda cioè quello che volevo chiedere anche a chi ci ascolta perché per me il fenomeno scout è stato 360 gradi nel senso che abitando in un paese relativamente piccolo era quello o era la CR cioè l'associazione cattolica quindi o una o l'altra mi chiedo se effettivamente non sia una cosa che magari anche non necessariamente nord o sud ma se sia una cosa che sia sparsa in maniera identica in tutta Italia o se dipenda tanto dalla zona in cui vivi non lo so però comunque penso che sia una cosa interessante anche perché tutte le volte che parlo magari con persone che non hanno mai fatto gli scout dico sempre un pregiudizio negativo giustamente anche sì sì no ma infatti no per carità di Dio scherzo no però capisco anche molto giustificato diciamo c'è un pregiudizio negativo molto giustificato sugli scout perché appunto portano tutta una serie di ideologie dietro con cui io per prima non sono d'accordo poi più che portano possono portare possono portare dal tipo di di caporeparto che trovi alla fine caporeparto compagni di compagni di viaggio qualsiasi cosa per cui effettivamente è una cosa è interessante il fatto che non sia ancora stato mi sembra un terreno fertile per raccontare qualcosa ecco per cui diteci se voi sapete se ci sono film sugli scout li guardo li guardo volentieri detto questo tornando al film ho fatto tutta questa tirata sugli scout tornando al film appunto secondo me Dove in maniera intelligente riesce a prendere questa roba qui e cercare di tirar su un discorso mega base mega semplice ma che comunque qui non possiamo non essere d'accordo anzi e lo fai anche in maniera divertente non banale perché comunque il film non è il film anche ha molti rimandi al suo interno per cui devi anche stare attento a quello che vedi ci sono delle scene veramente divertenti ci sono delle battute delle cose che continuano a tornare che sono estremamente divertenti sì sono molto simpatiche e in più i quattro protagonisti io mi ci sono affezionata mi ci sono affezionata il tempo zero tipo io quando ho visto il videoclip di Randy Jules ero già affezionata tanto che all'inizio mi sembravano così affiatati mi sembrava una dinamica così già ben creata che credevo che Get Yook fosse una serie tv non avevo capito che fosse un film per cui io come dicevamo prima a microfoni spenti se facessero un telefilm su questi quattro protagonisti io almeno il primo paio di puntate me le guarderei mega volentieri perché secondo me vanno sono incredibili insieme e nonostante siano anche tratteggiati magari alcuni più di altri magari ad esempio di J.B. Truth abbastanza bene rispetto magari a Brian a Brian Duncan Ian DJ J.B. Truth e l'altro moro che non mi ricordo come si chiama mi sembra Ian adesso controllo prova a guardare appunto questo qua di cui non ci ricordiamo il nome nonostante abbia il monologo finale si tra l'altro comunque appunto tutti sono tratteggiati in non in maniera incredibile però secondo me hanno veramente un sacco di potenzialità al loro interno per cui Ninian Doff e poi sono tutti ventenni cioè voglio dire anche meno lui ne ha ventitré per esempio per cui Ninian se ci stai ascoltando ci piacerebbe vedere un telefilm non lo so una miniserie una roba del genere io vi consiglio di vedere il videoclip di Run The Juice magari poi lo mettiamo tra le note sono tre minuti la canzone è figa e se vi è piaciuto il film o se volete un attimo capire come potrebbe essere il mood del film magari quindi sono giusto per giusto per capire un attimo quale sarà anche com'è il mood e basta non lo so sto pensando se ci sono altre cose da dire la fotografia è molto vabbè spettacolare le location sono sì sono veramente belle sarà che ormai Highlander mi ha plasmato in una certa maniera ogni volta che vedo le Highlands vedo sento la risata di Christopher Lambert per cui per me sì è come se fosse a casa visto che questa è la prima puntata di Ricciotto dopo le lunghe settimane estive e Fede sta ridendo perché io ho fatto un errore prima adesso lo stiamo rifacendo no ci tenevo soltanto a dire Wakanda Forever in ricordo di Chadwick Boseman che è morto dieci giorni fa ormai sì una settimana un po' di tempo fa mi è dispiaciuto molto anche perché a me Black Panther è piaciuto molto e lui è in quei pochi film in cui l'ho visto tra cui The Five Bloods sì infatti io non ho visto Black Panther però l'ultimo film che ha fatto è The Five Bloods di cui abbiamo parlato con Alice tipo a screen time tre minuti e lo domina sì è un personaggio incredibile tra l'altro appunto rivedendolo poi alla luce della morte è veramente veramente aggiunge un sacco di livelli in più che non avremmo voluto ovviamente che fossero aggiunti però è veramente una performance mega potente quindi essendo The Five Bloods su Netflix se non l'avete visto vi consigliamo di vederlo e se volete poi ascoltare la puntata che abbiamo fatto con Alice Cucchetti quando è uscito che secondo me è molto bella come qualsiasi cosa che tocca Alice esatto esatto per cui ve la consigliamo va bene grazie per aver ascoltato Ricciotto il cinema dalla parte giusta oggi inspiegabilmente di persona registrato di persona sì è stato bellissimo infatti se mi avete sentito su di giri è come se avessi mangiato anche io delle cacche di coniglio all'ucinogene è perché finalmente sto registrando vedendo in faccia Matteo dopo quanti mesi sono passati troppi aprile, maggio, giugno fede no fa male a tutti e grazie per averci ascoltate potete andare su Querti.it dove trovate tutte le puntate di Ricciotto ma anche tutte le puntate di tutti i nostri podcast potete associarvi a Querti potete ascoltare tutti i podcast che volete su Spreaker che è il più importante la più importante piattaforma di podcast d'Europa e probabilmente una delle più importanti del mondo e basta io vi do appuntamento alla prossima puntata che sarà breve dovremmo aver ricostruito la serialità normale di Ricciotto penso che dice si è ricostruito i viaggi viaggi temporali di Tenet no assolutamente no la tenaglia temporale e basta buona serata o buona mattina ciao ciao ho praticamente ha molto più senso così è più più guardabile più sensata e certo la webcam è quella che è abbi pazienza abbi pazienza perché ho deciso che mi rivolgo a te che stai guardando questo video in questo momento no e basta mi è rimasto mezzo scaffale vuoto lì che però tanto lo riempirò questo qua non si vede ma c'è un po' di casino questo è l'angolo delle riviste i fumetti sono sotto e sopra e qua c'è un sacco di spazio ancora libero però le robe che erano sparpagliate adesso devono trovare un posto va bene spero che ti sia piaciuta la puntata di la puntata di di ricciotto ciao chissà cosa farò in questo canale saluta saluta anche tu